L'evento Illuminiamo Gravellona, organizzato domenica dai commercianti benpensanti, è stata l'occasione per una simbolica inaugurazione del nuovo spazio pubblico realizzato nell'area Filanda. Una vera e propria piazza con area verde e panchine che presto avrà anche una intitolazione e che si presta ad ospitare eventi, concerti ed anche il cinema all'aperto durante l'estate. Come onere di urbanizzazione è prevista anche l'apertura del collegamento stradale tra via Pariani e via Luvione, dove sono stati anche rifatti tutti sotto servizi. È uno spazio che per anni è rimasto fermo, è rimasto tutto bloccato in seguito a dei fallimenti, ma ora dopo un anno di intenso lavoro l'impresa che ha ritirato questo intervento ha restituito alla città un pezzo importante, quindi una nuova piazza ha ultimato tutta una serie di urbanizzazioni che erano ferme d'anni e delle quali c'era bisogno, sistemazioni fognari, asfaltature, parcheggio. E quindi ora inizia a offrire alla città questo nuovo spazio attraverso un momento di festa, attraverso la giornata di festa per l'accensione delle luci di Natale. Ci sembrava un bel modo per far conoscere questa realtà.